esatto, esatto, fuori scrivete a chi non lo portai, caro Paola in questo modo, certo, allora mi stanno dicendo no, 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 è un esempio, niente numero allora mi stanno dicendo che il numero non ce l'hanno tutti ragazzi mettete il numero tutti, anche te, anche te no, devono tutti avere il numero l'unico che non vuole avere sono io, perché dei numeri che ho tanti ciao Nadie, stasera mi devo mettere il numero, hai sentito il capo? buonasera a tutti buonasera la nostra signora, new entry giusto, è la prima volta che vieni tu fa a una donna la numero 26 ragazzi donna numero 26 chi è questa donna fortuna? eccola qua è lei, è lei ciao ciao dimmi come ti chiami ci chiama Irena da dove dì Irena? da Pistoia ma da Pistoia, fantastico cosa fai di fare una vita? lavori in un'azienda di moda lavori in un'azienda di moda e non ci porta mai niente c'hai dei campioni in macchina non è campione non è campione ok come vorresti tutto un uomo ideale? non lo sa non sa come vuole l'uomo ideale non si esprime serio? un lavoratore un lavoratore